Un progetto al fine di valorizzare i mosaici che caratterizzano la città di Ravenna è quello a cui hanno aderito i ragazzi di lavoro in comune. Il loro impegno consiste nel restaurare i mosaici presenti in piazza Ugo Lamalfa, in particolare quello che rappresenta Bulov. Come mai hai scelto di fare una settimana di lavoro in comune invece di fare una settimana facendo altro? Beh perché comunque anche i miei genitori volevano che lavorassi e facessi qualcosa quest'estate per cui questo qui mi sembrava una buona iniziativa, qualcosa di bello da fare per cui ho scelto di fare lavoro in comune. Beh sinceramente mi volevo vedere se ero in grado di pitturare qualcosa, se ero in grado di fare qualcosa. Vabbè i miei non volevano che io non facessi niente tutto il giorno però devo dire che alla fine è stata una scelta anche giusta, mi sto anche divertendo. Se potessi la rifarei anche un'altra settimana. No l'ho scelto io anche perché è già il secondo anno che faccio una settimana di volontariato e questa quindi sembrava un'esperienza interessante. Perché volontariato, cioè fare bene agli altri e questo ti dà soddisfazione. Pensi che questo, il mosaico, sia un elemento rappresentativo di Ravenna? Pensi che sia importante rendere un elemento di spicco quest'arte? Il mosaico è una forma d'arte ed esso può rappresentare come tutta l'arte emozioni, sentimenti, stati d'animo. È un elemento estremamente rappresentativo per Ravenna quale città d'arte centrata molto sul mosaico ed esso è anche rappresentato in una forma un po' diversa quale questa, molto importante per rappresentare una novità, un movimento dal passato, lo stile bizantino. Sì, sono belli perché comunque rappresentano anche qualcosa di, non so, tipo una specie di interazione con un altro paese perché è un lavoro tra Ravenna e Cuba. È stata un'esperienza che rifaresti, ti è piaciuta e perché l'hai scelta piuttosto che fare altri progetti? Questa qui l'ho scelta in particolare perché parlava proprio del mosaico e avendolo studiato a scuola e sapendo più o meno come comportarmi ho proprio preferito ad altri. Sì, è stato molto divertente, è stato anche utile per la nostra città e quindi sì, sì, la rifarei. Sì, è stata una bella esperienza, mi sono divertito. Sì, è divertente, è interessante, mi piace molto, lo rifarei, sì. Le ragazze di lavoro in comune per Ravenna Web TV